La San Giorgio è un'azienda della campana che coniuga tradizione e innovazione e che è attenta al mercato e soprattutto al mercato della qualità. In effetti ha una linea di produzione di croissant a lievito madre davvero di grande qualità e attenta anche a quelle che sono le intolleranze e in effetti è da poco che ha lanciato sul mercato una linea di prodotti senza glutine e anche rivolta a quelle persone che vogliono, sono attenta al discorso del vegano e quindi una linea di prodotti vegani. Ci sono anche tantissimi prodotti della pasticceria tipica campana che sono famosi in tutta Italia e in tutto il mondo. È un'azienda in continua crescita presente su tutto il territorio italiano e anche all'estero. È davvero un grande esempio di imprenditoria vincente in Italia e nel mondo.